allora è tutto vero è tutto vero questa serie di 2022 2023 è di fatto una vera e propria a2 triplo colpo per il benevento e non solo c'è un sud tirol veramente che è scatenato un sud che è iper scatenato perché comunque vogliono comprovare a salvarsi dopo che sono arrivati dalla lega pro il cagliari anche sta operando ci sono anche altre ufficialità per altre squadre che ora andiamo a leggere ma prima prima di partire prima di partire iscriviti se non sei iscritto iscriviti maremma cane maremma cane perché qui burchiano lo youtuber mare in mano ragazzi vi porta delle notizie delle bombe di roboanza e tanti altri format sul calcio calcio mercato storie calcistiche video con le immagini scherzi telefonici si diverte si scherza la si scherza la si rita san toscani quindi iscriviti iscriviti è fondamentale la tua iscrizione al canale è fondamentale la tua iscrizione a questo canale maremma cane maremma cane e condividilo condividilo con tutti gli appassionati di calcio che conosci ha capito che bombe allora detto questo mi raccomando subito 50 like per un nuovissimo episodio che arriverà a breve iscrivetevi tutti condividetelo dappertutto con tutti i vostri amici con tutti i vostri parenti ok quindi ragazzi mi raccomando è fondamentale il vostro supporto e partiamo subito allora con questo partiamo subito con questo diciamo annuncio di roboanza per quanto di questi annunci questo triplo colpo di fatto di roboanza del benevento però ci sono anche delle ottime notizie per i prezzi economici che aveva impostato vigorito per quanto riguarda il discorso degli abbonamenti infatti hanno avuto effetto positivissimo e già sono già sono stati superati pensate i 1300 abbonamenti lì a benevento veramente tanta tanta roba e sono veramente molto molto contento per quanto riguarda questo triplo colpo in entrata arriva dalla juventus a titolo definitivo raga il giovane cappellini che quest'anno ha giocato in ha giocato in spagna è un ragazzo giovane che se ne parla bene quindi diciamo il benevento porta avanti anche questa politica di di rinforzi di rafforzamento comunque sempre per un discorso legato appunto ai giovani come aveva fatto anno scorso poi con il prestito di vogliacco con l'arrivo di elia ecco sempre una politica legata ai giovani che ci sta però questo è a titolo definitivo poi atti ha praticamente a titolo definitivo arriva anche forte che di fatto è stato riscattato per 3 milioni di euro dal venezia e poi è stato riscattato anche brignola per 2 milioni di euro dal sassuolo io qui qualche dubbio da un punto di vista di campo ce l'ho però se il benevento comunque ha ritenuto opportuno riscattare anche brignola avrà avuto sicuramente le sue le sue ragioni quindi è arrivato ufficialmente anche questo riscatto qui quindi triplo colpo in entrata per quanto riguarda la strega che sapete io tifo e poi per la difesa spunta il nome di ammione allora ammione è un duttile difensore mancino di proprietà del verona che l'ultima stagione ha fatto un buon campionato con la regina il costo del cartellino è di circa 2 milioni di euro vediamo se la trattativa si intensificherà però anche qui è un prospetto giovane e il benevento vuole comunque continuare a rafforzare la squadra tra un mix di esperienza e gioventù che poi è quello che serve quest'anno secondo me per fare un ulteriore upgrade però bisogna anche tenere una rosa lunga la rosa lunga perché hanno scorso in determinati momenti è mancato un po di supporto e di apporto dalla panchina quindi quest'anno sicuramente ci dovrà essere qualcosina in più da questo punto di vista e con caserta che per me dovrà anche si tenere conto questo 433 di partenza ma anche per me giocare con un altro modulo e io come sapete più volte poi ci farò anche un video specifico indico proprio il 4231 come alternativa al 433 che poi lo vedremo anche tramite un video un video dedicato poi trovate sempre tutti i contenuti nella sezione playlist moncini sempre vicino sempre vicino al bari sapete lui vuole lasciare il benevento vuole giocare con continuità è giusto è giovane a cui piace però al bari attenzione perché piace anche torregrossa vediamo se sarà un doppio colpo o se arriverà soltanto uno dei due giocatori per quanto riguarda il benevento vogliacco sembra che possa restare al genova quindi sia un po allontana la pista che vedrebbe il ritorno di vogliacco nel sannio e poi per la padula ci sono sempre discorsi aperti con con il cagliari a cui piace molto anche brunori che l'ultima stagione ha giocato a palermo attaccante di proprietà della juventus che però sembra abbia dato la priorità proprio per restare a parer a palermo se deve giocare in serie b quindi sembra che lui voglia restare a giocare con il rosa nero a proposito di cagliari cragno al mondo monza è quasi fatta a fare vicino alla chiusura per una cifra che si aggira dai 10 ai 15 milioni poi vedremo quale sarà nello specifico l'esborso economico che dovrà pagare il monza al cagliari e la formula sarà prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza però prima visto che il portiere ha solo due anni di contratto il cagliari vuole tutelarsi rinnovare il contratto per un altro anno ovvero quindi la scadenza sarebbe tra tre anni e poi si potrà concludere la trattativa che porterà il portiere toscano proprio a giocare a giocare ancora in serie a e questa volta con la maglia del monza sempre sull'asse monza cagliari piacciono molto anche gioco pedro e carboni con i discorsi che sono aperti e ne stanno parlando le parti invece per quanto riguarda una direzione inversa potrebbe essere il discorso donati che dal monza potrebbe andare a giocare a cagliari con liberani che l'ha già allenato a lecce quindi lo conosce c'è sempre questo discorso appunto ripeto arriva disco alla padula con il cagliari che sembra comunque vuole intensificare la situazione con il benevento per portare la padula a giocare in sardegna anche qui liberani l'ha già avuto a lecce quindi sarebbe un giocatore funzionalissimo anche io l'avevo indicato proprio anche quando ha fatto un video con il cagliari di liberani l'avevo indicato come per me una una pedina fondamentale in questo nuovo scacchiere tattico del nuovo mister per quanto riguarda il pisa si stanno limando gli ultimi dettagli per il discorso di maran è quasi ufficiale manca soltanto qualche parte burocratica e sempre per un per una notizia molto molto importante la costruzione del centro del centro sportivo anche questa è quasi ufficiale verrà costruito un nuovo centro sportivo al pisa e questo certifica il grande progetto che c'è in toscana con una piazza che è veramente ambiziosa il genoa il genoa prima di ufficializzare ha una grandissima necessità di sfoltire perché pensate che in rosa ha circa 50 tesserati si parla di un ecuban che ha delle offerte in turchia e cambiaso è conteso da mezza serie a si era fatto il nome di di inter di juventus si era parlato anche di roma se non erro e anche la fiorentina ha fatto un sondaggio però i bianconieri sono in vantaggio sull'esterno del genoa che veramente ha fatto bene nell'ultima stagione la regina passa ufficialmente a saladini che sta lavorando per l'iscrizione della della squadra calabrese a questa nuova serie b e sta limando la parte burocratica il parma che con pecchia se ne parla molto molto bene tutti danno pecchia come l'uomo giusto per la risalita per la rinascita del parma e anche io sono convinto veramente un allenatore che a cremona ha fatto fatto molto molto bene può fare altrettanto bene a parma intanto si lavora sul discorso del mercato è stato riscattato del prato che è praticamente un nuovo giocatore ufficiale del parma quindi dopo l'annata di anno scorso positiva che ha giocato in difesa in diversi ruoli è un ragazzo veramente se ne parla molto molto bene classe 1999 era di proprietà dell'atalanta passa ufficialmente al parma e quindi sicuramente questa è una nota positiva c'è nel frattempo anche un'altra notizia di roboanza una notizia di roboanza perché c'è una maxi operazione tra breccia e venezia la maxi operazione di mercato tra breccia e venezia vede i lombardi si assicurano il portiere luca lazzerini e il centrocampista nicolas galazzi invece per quanto riguarda i veneti arriva l'estremo difensore yes ioronen quindi intreccio e maxi operazione tra le due parti breccia e venezia è stata raga ufficializzata con lezzerini e galazzi che passano al al brescia e ioronen passa al venezia attenzione a perché coda piace molto al modena e sta valutando l'offerta sta valutando l'offerta del modena massimo coda vediamo questo sarebbe un colpaccio per modena si riesce a prendere coda veramente e poi c'è un sud tirol un sud tirol che è iper scatenato è iper scatenato perché la nuova squadra il nuovo sud di tirol che sarà allenato quest'anno da lamberto zauli ha ufficializzato l'arrivo di mirko carretta l'attaccante che ha giocato l'ultima stagione a perugia ha di fatto firmato un biennale inoltre sempre dal punto di vista offensivo c'è molta stima piace molto il trentenne chi ricò che l'ultima stagione ha giocato a padova e sarebbe un altro acquisto interessante perché lui veramente quest'anno ha fatto molto molto bene in lega pro e sarebbe un altro esterno offensivo che ci fa capire che secondo me questo sud di roll giocherà con un 4 2 3 1 o con un 4 3 3 però sembra che il modulo adottato poi in quest'anno che verrà adottato da zauli sarà un 4 2 3 1 per quanto riguarda sempre ufficialità attorno al sud di tirol è stato rinnovato il 23enne difensore marco curto fino al 2024 l'anno scorso 37 presenze e un gol e quindi un'altra pedina importante per la difesa e poi sempre per quanto riguarda la squadra neopromossa dalla lega pro piacciono molto anche il centrocampista offensivo brugman del parma e di tacchio della salernitana quindi veramente un sud tirol iper scatenato poi per quanto riguarda il cittadella c'è l'annuncio dell'attaccante raula senzio la spagnola arriva da lecce l'ascoli sta monitorando il centrocampista cucupias di proprietà dell'entella che la scorsa stagione ha giocato alla ternana ma non verrà riscattato e invece c'è una vera e propria mini asta per quanto riguarda l'attaccante che hanno che della proprietà sempre dell'atalanta veramente anche l'atalanta di vaio molto 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 importante latte latte che è di fatto conteso sia da spal modena e anche bar e anche al bari piace anche al bari l'ultima stagione sempre a ferrara con la spal ha fatto una stagione io direi discreta non ottima però insomma ha fatto tre gol quindi potrebbe essere un attaccante che magari nella rosa come come seconda terza punta ci sta in una squadra che è a mezza classifica in su una squadra che si deve salvare può fare anche il titolare il titolare onestamente quindi quindi queste sono gli aggiornamenti delle bombe delle bombe tra bombe e bombette di questa serie b 2022 2023 che ci garba ci garba c'è gusta c'è gusta la serie b c'è gusta scopo c'è gusta la non c'è gusta scopo c'è gusta la non c'è gusta scopo quindi questo niente era fatto è tutto ora io vi invito chiaramente vi rinnovo vi rinnovo la la ragazzi iscrivetevi a questo canale è gratis non pagate una sega non pagate una sega iscrivetevi al canale perché è tutto gratis iscrivetevi al canale non fate veramente dai non fate non fate piscari non fate piscari iscrivetevi al canale maremma cane perché burkiano youtuber maremmano si merita almeno da 5.000 iscritti il prima possibile condividetelo con tutti i vostri amici ditemi la vostra cosa ne pensate e come dico sempre ciao a tutti che serie b